Buongiorno a tutti, mi rendo conto che chiedere ogni domenica della campagna elettorale un appuntamento al mattino sia impegnativo, tre domeniche fa abbiamo riempito il palladio per presentarci alla città, domenica scorsa abbiamo inventato l'officina delle idee, quest'oggi in maniera molto semplice e breve perché so che molti di voi devono tornare negli avvamposti della campagna elettorale, vogliamo presentare alla città alcune riflessioni che sono uscite dalla sala mensa della Baxi. Confermiamo lo stile, qui non c'è nessun simbolo di partito, non c'è nessuna immagine della nostra campagna elettorale perché riteniamo che questo percorso, il percorso delle officine delle idee sia un percorso civico per tutta la comunità. Noi abbiamo lavorato insieme domenica mattina scorsa anche con persone che non fanno parte della nostra coalizione. Perché questo? Perché l'abbiamo detto all'inizio, noi abbiamo un preciso progetto politico subassano, siamo fortemente impegnati in questi giorni a proporlo e speriamo che i cittadini domenica prossima lo vadano a premiare, ma fra tutte queste idee abbiamo anche l'idea che gli altri hanno buone idee e che questa città potrà migliorare soprattutto se ci sarà un'amministrazione cocomunale libera da schemi di partito e che vada a facilitare l'incontro delle proposte e delle idee di ciascuno. Abbiamo pensato l'officina delle idee suddivisa in dieci reparti, erano dieci grandi temi su cui la gente ha discusso, soprattutto perché siamo partiti da questa idea. Noi vogliamo portare Bassano al centro, dove il centro non è un luogo politico, la destra, la sinistra, il centro, ma il centro è l'attenzione, il centro è l'interesse, il centro è la sensibilità e pertanto noi ci candidiamo fuori dagli schemi di partito con tutto rispetto verso i partiti e verso il ruolo costituzionale che viene affidato a queste formazioni perché non partiamo dal principio che abbiamo un'idea e vogliamo modellare Bassano sotto quell'idea lì. Il centro-destra ha un'idea e vuole vincere le elezioni per fare e governare Bassano da centro-destra. Il centro-sinistra è lo stesso, il Movimento 5 Stelle è lo stesso, eccetera. Noi invece riteniamo che la scelta fondamentale sia quella di partire dalla città, perché, se vi ricordate, il nostro programma elettorale, noi abbiamo un giudizio positivo su Bassano. Bassano al suo interno ha tutte le risorse possibili, non certo tutte le soluzioni, per rispondere al bisogno di futuro che la città esprime. Dunque questa scelta di fondo è stata una scelta di metodo. Io vi racconto poche cose, questo è solo uno dei fascicoli, e ringrazio la Giuliana che ha lavorato questa settimana a livello di mettere i report di magazzino, inviarli alla produzione, questo è uno solo dei fascicoli strapieno di idee che sono uscite. Idee semplici, cioè sono le grandi idee, ci sono le idee semplici, però sappiamo che governare una città e migliorare una città è un insieme di grandi progetti, ma anche di piccole attenzioni quotidiane che più delle volte sfuggono, proprio perché in minute è poco considerate. La prima parte che esce dalla voce dei reparti sono dei percorsi, delle attenzioni generali che noi abbiamo percepito domenica scorsa e che riteniamo utili a chiunque vincerà le elezioni, non solo se le vinceremo noi. Domenica ha parlato la città, dunque queste sensibilità, queste aperture, questo senso del dove andare, noi lo riteniamo utile per tutti. La prima è che l'officina non deve chiudere, anzi deve aprire nuove sedi. Abbiamo sperimentato un metodo molto concreto, quello di sederci attorno a dei tavoli e di confrontarci. Non c'è stato nessun giudizio su nessuna idea. Chi è venuto e ha dato l'idea, che sia stato giovane, anziano, eccetera, non è stato giudicato. Ha avuto un luogo molto democratico, molto libero di esprimere come la pensa e come vorrebbe su un determinato tema. Io credo, noi crediamo dunque che questa esperienza vada a indicare al prossimo sindaco un metodo significativo. Perché nuove sedi? Perché non è solo un'occasione generale, ma pensiamo anche che possono esserci sedi nei quartieri, in vari mondi. Uno dei gruppi che ha maggiormente lavorato e che ha maggiormente prodotto è il gruppo dello sport, dove ci sono proposte significative per potenziare l'uso degli impianti, il rapporto delle società sportive, le manifestazioni sportive. Ebbene, noi lo accettiamo come metodo questo. L'amministrazione comunale deve dare spazio sempre di più a queste occasioni. Pensiamo alle categorie economiche, ai commercianti del centro storico o ai commercianti di vicinato nei quartieri. Offrire delle occasioni perché sui problemi concreti l'amministrazione sappia ascoltare e misurarsi con queste cose. Per esempio, le attuali assemblee di quartiere utilissime, io nel giro di tre anni ne ho fatte più di 70, sono comunque non nello stile dell'officina. Perché si va, si parla, ci si confronta su alcuni temi, ci si saluta, ci sono dei report col presidente di quartiere, eccetera. Impostare, non dico tutte, ma un ciclo di assemblee di quartiere sullo stile dell'officina, significa mettere il cittadino che partecipa nella concreta possibilità di dire la sua e di proporre qualcosa di significativo. La seconda cosa che esce è la creatività estesa. Cioè, anche per uno come me, che sapete, ha un percorso decennale, pluridecennale in comune, io ho sentito cose, ho sentito idee, ho letto proposte che non avevo mai sentito. Evidentemente, quando si fa parlare alla gente, quando la gente la si mette nel proprio agio, vengono fuori idee dai giovani. C'è il gruppo dei giovani, non vedo qui il coordinatore, ma è interessantissimo il gruppo dei giovani. È il gazebo, certamente. E pertanto il tema della creatività, che lo avevamo intuito, perché nel programma della nostra coalizione, quando ci siamo chiesti e ci chiediamo come far felici i bassanesi, abbiamo detto che li possiamo far felici solamente attraverso creatività e curiosità. Ebbene, da questa esperienza viene fuori una creatività estesa, delle risposte fortemente significative e tutte riferite, anche il gruppo del Medi in Bassano ha questo aspetto, alla ricerca dell'eccellenza. C'è un'attenzione prioritaria e viene fuori quello che sappiamo, l'abbiamo detto, governare Bassano non è copiare il governo di un'altra comunità. Noi siamo orgogliosi di essere bassanesi e questo affetto, questo attaccamento alla città viene fuori perché ogni proposta che è stata presentata esprime questa ricerca di un'eccellenza bassanese. Un altro punto è la logica di progetto. Le proposte non sono proposte anche le più immediate, ma soprattutto qui ha lavorato in maniera precisa il gruppo scuola e lavoro praticamente, cioè quello che non si butta lì un'idea, ma anche chi ha fatto l'idea, anche l'idea più semplice, sa che poi c'è una mediazione amministrativa da fare. Pertanto il nostro progetto amministrativo del pensare, del condividere, dell'agire concretamente si rispecchia nei gruppi di lavoro della sala mensa Babaxi. Dunque possiamo affermare che il prossimo sindaco o la prossima sindaca non deve essere un sindaco del fare, un sindaco che si distacca dalla città e dice adesso io penso mi. Perché ciò che è emerso anche in questo laboratorio di domenica scorsa è che le soluzioni migliori vengono fuori quando si pensano, si condividono e poi si fanno concretamente. Però il passaggio di avere in città un momento significativo in cui ci pensiamo alle cose e le condividiamo con la gente è emerso in tutti i gruppi con particolare importanza e sottolineatura. Avevamo pensato all'officina con i reparti con la produzione con lo sviluppo con il magazzino con il mercato e con il marketing. Se vi ricordate noi abbiamo costruito così l'officina. Non avevamo pensato che l'officina ha bisogno della banca. Forse perché non è il tempo più propizio del sistema creditizio in Italia ma questo ci era sfuggito. Invece dai reparti esce l'idea che in città vanno fatte delle banche cioè vanno fatti dei depositi in modo da creare credito e investimento soprattutto a livello di tempo di idee e di servizi. Cioè il cittadino singolo ma soprattutto il cittadino associato emerge dalla scuola emerge soprattutto dal reparto dei quartieri eccetera vede l'amministrazione comunale non come qualcosa che si isola che autonomamente governa la città ma è pienamente disponibile a partecipare alla vita della città mettendo a disposizione tempo, idee e servizi. Straordinari i giovani il gruppo i ragazzi e i giovani ci mandano a dire perché elencano una serie di proposte concrete di idee concrete per poter essere partecipi non tanto presenti il gruppo della città frizzante della cultura per intenderci su questo è preciso ad offrire occasioni biennali eccetera proprio per mettere a servizio della città tempo idee e iniziative dunque sta bene che ci sia il sindaco evidentemente che amministra ma dall'officina esce l'idea che i cittadini sono più che disponibili a fare questo anzi ci sono dei gruppi ci sono delle esperienze delle testimonianze quasi di dire perché non veniamo non possiamo partecipare non possiamo essere molto più attivi sotto questo aspetto dunque l'officina e a noi era sfuggito ha bisogno di una banca dove si depositano tempo a disposizione eccetera e lo si mette però in circolo vivere la città e questi sono tre passaggi credo di averli trovati io dall'analisi dal report di Giuliana in ogni reparto e pertanto l'informazione informazione tempestiva ma anche molto anticipata sugli eventi il reparto della città frizzante dice la città ha bisogno di sapere tempo prima in maniera molto anticipata delle iniziative in modo che si possono fare delle proposte collaterali la comunicazione e soprattutto il sapere condiviso sul tema della trasmissione del sapere abbiamo raccolto dei passaggi molto importanti il sapere certamente quello intellettuale eccetera ma anche il sapere manuale c'è il reparto scuola e lavoro ma esce anche nella dimensione della cultura e decqua quartieri il fatto di trasmettere non solo in termini intergenerazionali i saperi manuali pertanto ci sono degli aspetti legati ad esempio all'attigianato molto e molto significativi la visione oltre esce dall'officina delle idee una domanda di più politica se devo fare una sintesi di tutto il lavoro di domenica scorsa credo che la città la città quel particolare porzione di città che era presente in sala memensa alla Baxi faccia la richiesta di più politica che non è sia ben chiaro più partiti più politica politicante eccetera è il sapere insieme come comunità individuare i scenari prossimi la politica non è l'amministrazione del presente e il saper dire dove va una comunità ebbene è chiarissimo dal lavoro dell'officina che bisogna vivere il presente ma soprattutto comprendere e politicamente orientare il futuro dunque il prossimo sindaco la prossima amministrazione deve essere in grado di dire alla città di dire alle categorie economiche di dire alla comunità sono gli scenari che abbiamo di fronte quale sarà la Bassano del 2020 2025 2030 in cui dobbiamo già ora innestare determinate presenze e pertanto alcuni temi legati al turismo legati a cercare nuova occupazione giovanile eccetera sono determinanti determinante lo scenario sociale lo sappiamo benissimo che la sfida dell'invecchiamento della popolazione oggi un bassanese su 4 ha già compiuto 65 anni vivremo tutti più a lungo a Bassano del Grappa il problema è come vivremo più a lungo e soprattutto quale risorse la comunità oggi deve già pensare per rendere la vita anziana che sarà una vita quasi maggioritaria in città più vivibile possibile per esempio sul tema della non autosufficienza si è riflettuto particolarmente perché sarà un tema cruciale lo abbiamo detto lo abbiamo detto in questa occasione nel nostro programma il processo di invecchiamento dei bassanesi sarà pesantemente accompagnato da un processo di impoverimento dei bassanesi perché se oggi i nostri anziani ultra ottantenni ultra settantenni hanno un risparmio messo via hanno in moltissimi casi la casa propria eccetera e questi danno una sicurezza sociale lo scenario è quello che fra 15 anni avremo molti più anziani con meno strumenti economici oggi e la presenza e l'aiuto del pubblico sarà ancora più fondamentale ma non possiamo dire ci penserà il sindaco che ci sarà fra 15 anni perché le risposte le dobbiamo cominciare a dare oggi dunque più politica in questo senso capire come sarà la città fra 15 anni e innestare oggi sul campo del lavoro capire che oggi l'85% delle persone che trovano un lavoro lo trovano in aziende piccole che non esistevano fino a 2-3 anni fa questo significa che a livello di proposta economica proposta occupazionale in città il comune deve farsi regista di una concertazione fra le categorie economiche perché anche a Bassano sui fronti innovativi si sappia investire e capire che quella è una risposta che oggi crea occupazione i contenuti evidentemente i reparti hanno riempito il magazzino come vi dicevo non vado a elencare proposta per proposta saranno messe appena rielaborate e completate nel sito la nostro e saranno ridivulgate spero consegnate a me come futuro sindaco oppure le andremo a portare a chi evidentemente i bassanesi sceglieranno una serie di proposte legata alla cura della città dopo tutto era evidente che questo fosse un tema che emergeva dall'officina perché il cittadino vive la città forse l'amministratore il politico vede la città un po' più dall'alto ma se chiamiamo i cittadini attorno a un tavolo il cittadino ti parla della cura della città e le proposte che escono sono tutte riferite al tema della qualità e pertanto l'attenzione alla città dalle piccole cose alle più grandi è una richiesta di maggiore qualità della vita collettiva riferita sia il tema della manutenzione della città sia anche il tema dei servizi che il comune o comunque il pubblico pensiamo all'ULS in questo aspetto offre alle persone il secondo è quella di una città abitata certamente chi è venuto domenica scorsa è un cittadino partecipe è un cittadino che comunque ha una relazione con la città bene esce una domanda di relazione di comunità c'è un passaggio che è un passaggio molto delicato eccetera dove chi ha un po' di sensibilità ha subito messo attenzione sulla solitudine educativa delle nostre famiglie oggi la famiglia i genitori si trovano il più delle volte a Bassano del Grappa a educare da soli e pertanto è un tema che forse sfugge perché magari pensiamo che i problemi della città siano altri invece la solitudine educativa dei genitori e pertanto pensare a quali supporti oggi dare alla genitorialità è un tema molto molto forte questo cosa vuol dire vuol dire che quando abbiamo detto che la città è cambiata è cambiata anche perché ci sono delle agenzie educative fino a qualche anno fa alleate formidabili delle famiglie pensiamo con molto rispetto a tutte le attività parocchiali che sono certamente che stanno vivendo certamente un tempo diverso di alcuni anni fa che vengono a mancare e pertanto i genitori si trovano anche in questa situazione dunque c'è questa richiesta che esce e non solo dal gruppo sociale questa è una richiesta che è uscita in tante occasioni fin tanto quanto a capire nel tavolo dello sport che oggi se c'è una realtà alleata ai genitori e che deve trovare certamente un supporto significativo dall'amministrazione è proprio la realtà sportiva perché ormai in certi settori e in certe fasce di età soprattutto adolescenziale e post-adolescenziale è l'unica occasione rimasta in molti quartieri in cui c'è un supporto speriamo non solo agonistico sportivo ma anche educativo sotto questo aspetto dunque se c'è un'alleanza da proporre è proprio l'alleanza educativa 15 giorni fa il palladio ma anche prima in questa sala parlavamo della città educativa che non è che il comune si mette a educare il comune deve far tutto fuori che assumere queste funzioni però un'alleanza fra attori educativi che parte dalla famiglia esce come importanza un'altra cosa è la sostenibilità come criterio io qui la tradurrei il tenere i piedi per terra e pensare che tu devi amministrare oggi pensando a non creare nessun danno a chi verrà dopo perché evidentemente se c'è una cosa da apprezzare dalle proposte che sono emerse è che sono proposte che hanno i piedi per terra chi è venuto era già un cittadino sensibile che sa che il comune può arrivare fino a un certo punto che ci sono degli evidenti problemi anche di tipo economici che la comunità nel suo insieme deve affrontare e non c'è in nessun passaggio in nessuna proposta l'atteggiamento di staccare le proposte dalla sostenibilità economica con cui devono essere affrontate per quanto riguarda la città frizzante cultura scuola eccetera non si chiede tanto al comune di fare nel gruppo della città frizzante cultura eccetera non si chiede tanto comune fai che io vengo a vedere lo spettacolo vengo a vedere la mostra eccetera eccetera si chiede quanto più che il comune sia un regista di iniziative e soprattutto che il comune sappia condividere dei suoi spazi a partire dal sistema museale dal sistema museale alla città che sappia farsi contagiare innanzitutto dagli artisti locali e anche sappia trasformare queste proposte in possibilità economiche e occupazionali dunque io ho inserito qui una parola che è innovazione che è ripetitiva nei reparti perché dalla creatività di cui dicevo prima esce solo percorsi di innovazioni cose nuove anche molto semplici ve le potrei leggere sul campo della cultura in cui anche nell'animazione del centro storico nell'attività di atelier artigianali all'interno nella valorizzazione dei tanti siti che il comune ha e che purtroppo riesce a aprire solo alcuni mesi all'anno pertanto l'apertura di Palazzo Agostinelli l'apertura di piccoli segni e presenze che sono in città passa attraverso anche proposte fortemente innovative la città brillante si è guardato dentro al municipio evidentemente la prima richiesta non è una richiesta perché vengono anche delle proposte importanti su cose anche spicciole l'ottenere un plateattico ottenere l'autorizzazione per una sale e così via è attinente alla burocrazia cioè anche se io ritengo che alcuni un percorso è stato fatto evidentemente questa città che vuole partecipare che vuole proporre che vuole mettersi a faccia a faccia con il comune chiede meno burocrazia non perché la burocrazia sia una cosa che non serve noi abbiamo iniziato in ritardo perché non trovevamo le chiavi perché la burocrazia prevede un percorso e mi sembra che sia una cosa elementare mica i cittadini possono avere le chiavi di salato il tolio eccetera cioè un percorso era molto semplice abbiamo sbagliato noi a non rispettarlo tra le mille cose che dobbiamo fare però evidentemente la semplicità di questo e se mi permettete una cosa che faremo immediatamente è quello di sburocratizzare la richiesta di sale a Bassano perché non è possibile che per chiedere una sala e questa sala si debba si debba no andarsi prendere le chiavi che mi sembra la cosa più concreta ma pagare due marche da bollo che poi vanno a Roma perché la marca da bollo non entra nella tesoreria cocomunale ma va direttamente in tesoreria nazionale sia una cosa che se è decisa per legge bene però possiamo anche pensare un sistema che non vada contro la legge ma riesca a superare questa cosa nuove e pari opportunità credo che non occorra che io la vada a commentare non c'è tavolo tavolo dell'officina dell'idee che non presenti e che non offra nuove opportunità sia in termini di lavoro di coinvolgimento e di partecipazione attiva il Made in Bassano il certificare il territorio il confermare la vocazione europea ci sono dei passaggi su questo che sono molto significativi che avevamo intuito ma chi ha lavorato in questo tavolo lo ha veramente messo in maniera molto molto chiara il richiamo al nostro territorio e ci sono anche dei passaggi di ricostruzione storica di che cosa era Bassano noi lo abbiamo ricordato in varie occasioni l'ho ricordato anch'io la Bassano definita la piccola Atene quando c'era Alberto Parolini o Giovanni Battista Brocchi il senso dei Remondini eccetera dunque questi artisti che erano imprenditori che erano mercanti il libro più interessante Degda Ponte sono i bilanci dei Daponte per capire che cosa producevano i Daponte eccetera e pertanto il gruppo Made in Bassano ha lavorato in questa prospettiva è una prospettiva che il prossimo assessore o assessora al turismo sarà un assessore comprensoriale non si può pensare di fare turismo a Bassano rimanendo all'interno dei nostri metri quadrati dei nostri 43.500 abitanti ma la vocazione è sicuramente pedemontana è del Brenta Valley il gruppo ha tirato fuori anche questa simpatica definizione che unendo colline pedemontana fiume credo che abbiamo tutte le caratteristiche perché non solo due su mille turisti che oggi vengono in Veneto siano intercettati dal nostro territorio ma che questo numero aumenti significativamente la dimensione europea non è solo turistica evidentemente ne ha parlato la scuola con tutto il lavoro fatto di scambi eccetera ricordiamo che i nostri gemellaggi nascono dalle scuole soprattutto quello con Guaron è un gemellaggio scolastico ma la vocazione europea della città è presente anche in tanti altri aspetti c'è lo sport che dice dobbiamo fare grosse manifestazioni perché è attraverso le manifestazioni sportive di livello che portiamo gente a Bassano e soprattutto riusciamo a portare gente a Bassano anche dai paesi europei sugli investimenti ci sono questi aspetti cioè la manutenzione l'arredo della città sono anche puntuali le risposte scusate le proposte su questo punto e c'è una chiara indicazione che bisogna investire ancora sicuramente in città ma per aiutare la crescita e pertanto pensare a quegli investimenti che hanno subito un ritorno significativo alle nostre imprese con particolare attenzione al paesaggio e all'ambiente la città gio giovane ha riflettuto su il tempo occupato e il tempo libero io ho fatto dieci anni fa l'assessore ai giovani a Bassano dovevamo occuparci del tempo libero dei giovani perché c'era un tempo occupato ora purtroppo c'è ancora un tempo occupato dei giovani ma c'è anche un tempo disoccupato dei giovani perché questo è un tema molto molto forte che evidentemente va affrontato perché in qualche misura e ne abbiamo parlato in queste settimane di campagna elettorale il comune anche se non direttamente deve farsi protagonista in una cornice con il mondo giovanile le categorie economiche eccetera per trovare percorsi importanti per occupare i giovani non durante il tempo libero ma durante quel tempo che fino a poco tempo fa veniva immediatamente occupato finito il diploma ho finito il conseguimento degli studi universitari si parla di spazi c'è una grande sottolineatura sulla biblioteca comunale che viene fortemente apprezzata ma c'è la proposta che poi noi abbiamo anche lanciato nel nostro programma che è semplicissima dell'apertura serale della biblioteca che sarebbe a mio avviso anche un grosso contributo all'animazione del centro storico perché evidentemente tenerla aperta c'è qualche problema perché si può fare col volontariato ma aprirla col volontariato vuol dire aprire la porta non farla funzionare il prestito dei libri alcune cose ci vuole certamente il personale addetto e arriviamo alla parte del capoluogo la città capoluogo le proposte sono significative sia a livello dell'ospedale che sapete è uno dei temi che ci occupa maggiormente c'è la proposta di alcune specializzazioni cioè chiedere alcune specializzazioni precise all'interno dell'ospedale la proposta era legata alla cardiologia in maniera particolare sul tribunale si insiste sulla presenza di un tribunale della Pede Montanel c'è la proposta di costruire del carcere a Bassano sappiamo benissimo che avendo il carcere si avrebbe immediatamente anche il ritorno del tribunale eccetera dunque tutta una serie di proposte concrete e anche proposte fattibili perché si porta avanti questo aspetto sotto l'aspetto io ho finito e adesso e adesso fra le possibilità le proposte per portare avanti questo impegno c'è anche questa che mi permetto di indicare c'è una coalizione civica formata da un candidato sindaco da 5 liste civiche da 108 candidati che credono in questo modo di fare amministrazione e che ritengono che ci siamo mossi in questo tempo e ci proponiamo proprio perché riteniamo che partendo da Bassano e non da un programma partitico nazionale si riesca veramente a mettere in circolo risorse e risposte concrete per la Bassano che verrà grazie a tutti pertanto le proposte concrete una volta sistemate ancora verranno messe a disposizione ecco non vuole essere scortesia ma so che molti siamo in campagna elettorale lo è il candidato sindaco io ho una serie di impegni non è scortesia se lascio questa sala perché comprendete che non abbiamo solo i gazebi ma la città ha 22 quartieri e l'ultima domenica elettorale vi ringrazio di essere stati qui e chi condivide la nostra idea passi una settimana dormendo poco e correndo tanto grazie la città la città la città la città la città a e ho pe che la città la città è Grazie a tutti. Grazie a tutti.